Comandante, quattro morti in due mesi sull'autostrada in un tratto circoscritto tra Pescara Sud e Lanciano, un tratto che molti chiamano tratto della morte. Io francamente non esagererei con questi aggettivi, anche se il tributo di sangue è assolutamente inaccettabile. L'autostrada A14, bisogna intenderci un attimino sui termini, come tutte le strade è una strada che all'occorrenza può diventare pericolosa. Lo diventa soprattutto quando il fattore umano diventa preponderante nella trasgressione delle regole. Non esistono però paracarri killer, curve killer, ponti killer, come qualche volta si sente dire. All'origine degli incidenti stradali c'è sempre il fattore umano, però è un'autostrada che con il tempo presenta segni di vetustà perché è stata concepita in decenni passati ed è un'autostrada, soprattutto nella tratta del Chietino, particolarmente complessa dal punto di vista operativo nella gestione dei mezzi pesanti. Ecco il motivo per cui d'inverno con le nevicate ci sono forti criticità, perché ci sono pendenze elevate, ci sono viadotti insistenti. Ed ecco il motivo per cui nell'eventualità di una chiusura per un incidente stradale come è successo ieri, la mancanza di itinerari alternativi provoca code in uscita. Comandate, molti puntano l'indice sui tanti cantieri esistenti sull'A14? Guardi, il cantiere stradale è una valutazione dell'ente proprietario della strada. La polizia stradale fa il proprio lavoro, ma non può interferire minimamente nelle scelte tecniche e gestionali che sono dell'ente proprietario della strada. Però anche qui è il caso di mettersi un attimino in sintonia, perché talvolta la mancanza di opere stradali induce l'opinione pubblica a reazioni allarmate, la mancanza di manutenzione, il manto stradale non rifatto. Bisogna un attimino essere sereni e valutare proprio l'autostrada nella sua complessità. Le raccomandazioni per quest'estate agli automobilisti sono sempre le stesse? La raccomandazione è sempre la stessa. Le strade vanno conosciute perché ogni strada parla del territorio e ha delle problematiche diverse. Per questo forse il messaggio generico tipo raccomandare la prudenza, per quanto sacrosanto, spesso è di impatto ridotto. Ogni tratta stradale ha delle particolarità. La tratta stradale di Chieti, sono 76 km di autostrada, si caratterizza proprio per l'alternanza di viadotti e di gallerie, quindi la mancanza anche di una terza corsia, con delle pendenze talvolta superiori al 5%, il che significa massima attenzione, rispetto delle distanze di sicurezza e soprattutto controllo della velocità.